Ci siamo, ci siamo quasi, prossimi all'arrivo in passeggiata, stiamo concludendo un po' tutto, un po' tutta la fase del colore che porta con sé anche tante rifiniture e tutto un aspetto che combaci coreograficamente a quello che sarà l'avventura e l'esperienza di questa maschera. La fase del colore è forse quella che permette la massima espressione attraverso anche l'amore che si presenta con i colori e l'insieme della mascherata. Grazie. 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 Grazie.